Siamo nel centro commerciale Le Porte di Napoli, ad Afragola, nel punto vendita Ottimax, leader nazionale per la distribuzione di prodotti tecnici per la casa e non solo. Siamo con Alfredo Calandrelli, partner di Ottimax, per parlare del nuovo progetto che l'azienda sta lanciando per avvicinare gli artigiani all'azienda per migliorare la qualità e la filiera dei prodotti venduti. Prima di tutto cerchiamo di gestire la qualità del prodotto e in più daremo dei servizi dove l'artigiano oggi purtroppo non trova sempre, quindi si trova a disagio sia per le consegne che per il servizio dei tagli che per il servizio delle quantità e dell'assortimento. La Ottimax Italia S.p.a. è un'azienda che punta principalmente sulla qualità e seguita subito dopo dal servizio. Quindi avrà intenzione di seguire il nostro cliente, il suo cliente a 360 gradi dove avranno degli sconti personalizzati, avranno dei servizi personalizzati e così riusciremo a gestire il cliente a 360 gradi cercando di non creargli mai delle difficoltà sia per la qualità dei prodotti che per il servizio da noi dato. Siamo con Sozio responsabili del settore acquisti. Gianni, ci spieghi nei dettagli questo progetto di avvicinare gli artigiani all'azienda, questa cosa che state state creando e che state presentando poi questa sera ai tanti artigiani che sono intervenuti? Sì, allora tutto è nato con un semplice caffè, un bar con Alfredo dove ci è venuto in mente appunto che si poteva fare qualcosa insieme dando la possibilità appunto all'artigiano che ormai è considerato un cliente come posso dire importante per tante strutture, per tante realtà, ma per noi deve essere a capo del nostro progetto quindi dare la possibilità all'artigiano di venire da noi, trovare un assortimento di impatto un prezzo sicuramente accattivante e un servizio impeccabile e quindi da lì è nato tutto quanto il resto, insomma, con Alfredo e con la Canandrelli abbiamo detto sediamoci e capiamo come mettere in piedi tutto questo progetto. Quindi diciamo, sottolineiamo quello che diceva prima Canandrelli qualità, servizio e prezzo sono gli elementi che caratterizzano tutta la vostra politica commerciale e di business in realtà sul territorio? Assolutamente sì, è la base per tenere stretto un artigiano insomma.